potete decidere voi, a campo libero parto non mi metto qui, non mi metto qui, non mi metto qui a campo libero, bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo anche te Emanuele, bravo che non ci siamo fermati bravo, rispetto a prima abbiamo continuato qui in fondo buono, andiamo e Matti, cosa inventiamo adesso Matti bravo andiamo, andiamo figlio dai che è una botta, andiamo, andiamo, andiamo seppre, il pozzone ah bene, il pozzone aiuta, Mauro e gli stiamo fuori dai che non è niente anche te perfetto, facciamo l'uno contro l'uno degli infortunati e poi nel dopo dai Vito, andiamo, andiamo Vito dai, manuele, dai, sul cazzo è una botta dai pronto Mauro, pronto Manuel dai, stiamo Mauro diciamo presto, due stampelle, dopo se volete Grazie